Si terrà martedì 19 marzo alle 21 al Teatro Pallaparteno per la nuova edizione di Gli Sto Vicino a Te 64, l'evento omaggio a Pino Daniele nel giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 64 anni e festeggiato anche il suono mastico. Ideato dal fratello Nello Daniele, il Memorial gode della direzione artistica del giornalista Federico Vacalebre e vedrà la partecipazione di artisti famosi ed emergenti. Sul palco al riprendere le canzoni del Nero a Metà saliranno gli Avion Travel, Enzo Abitabile, Tony Esposito, la nuova compagnia di canto popolare, Raiz e Lina Sastri, ma anche tanti giovani ed il musicista dell'uomo in blusa Antonio Annona. Cerchiamo di portarlo avanti con una squadra forte, quindi si fanno delle cose con il cuore e con la capacità di non uscire fuori dai canali, quindi se noi restiamo sempre in quel canale con umiltà, cerchiamo di accontentare tutti, facciamo anche i grandi nomi sono importanti, ma la cosa più importante ci vogliono noi grandi anime, grandi cuori per fare questa cosa e diamo anche molto spazio ai giovani. Questa è un'edizione di presenze importanti, molte presenze femminili, molti giovani. Questa festa di non compleanno, di non onomastico, questo concerto grosso, è una maniera per dire abbiamo ancora bisogno di Pino Daniele, delle sue canzoni e non del Pino retorico, non di questa melassa in cui tutti quanti lo cantano e sono bravi tutti, no, quelli tali e quali non ci piacciono, gli imitatori non ci piacciono. Non abbiamo bisogno di cover band, abbiamo bisogno di artisti che sappiano mettere le mani in Donna Concetta e rilanciarla, per noi che la ricordiamo come la cantava Pino e per i ragazzi che non l'avevano ancora mai ascoltata. Come ogni anno i biglietti sono gratuiti e scaricabili dalle 11 di sabato 16 marzo sul sito del Comune o recandosi presso il botteghino del Teatro Palapartenope. È veramente per noi una grande festa, anzi la festa che apre la primavera, la primavera è sempre la stagione in cui si ravvivano e rifioriscono le speranze, quindi per noi anche questo rito non rito, insomma in qualche modo vuol dire questo, introdurci di volta in volta e ogni volta in questo tempo di ripresa delle speranze. Ha un titolo bellissimo secondo me, sto vicino a te, noi siamo vicino a lui, lui continua a stare vicino a noi ma soprattutto è il messaggio per dire che dobbiamo essere una comunità in cui ciascuno è vicino all'altro.